La Scandone Avellino di Nino Sanfilippo oggi affronta Molfetta, appuntamento al Del Mauro alle 18.30, una sfida tutt'altro che semplice considerando che i biancoverdi se la vedranno contro la prima della classe. La squadra che sta guardando in questo momento tutti dall'alto verso il basso, un cammino esaltante quello della formazione allenata da coach Carlo Lillo, ma i lupi hanno dimostrato in pieno di potersi sedere al tavolo delle grandi e la vittoria contro Angri è l'ennesimo segnale di questa stagione. La Scandone affronterà questa sfida priva del talento argentino Sanchez, infortunato ferma il box per un mese, per coach Sanfilippo ci sarà anche il dubbio d'Offizzi che purtroppo non si è lanato a pieno regime. Gli Irpini proveranno a far saltare il banco per un'impresa che non è impossibile, ma bisogna considerare come il match arrivi in un momento di totale difficoltà. Tenere sotto a media Molfetta non sembra cosa semplicissima, ma Trapani e compagna hanno più volte dimostrato nell'arco della stagione di poter essere capaci di imprese importanti, soprattutto nelle condizioni di maggiore difficoltà, quando sono mancati alcuni elementi fondamentali per il roster bianco-verde.